Vengo dall'Olanda, sono nata lì, ho vissuto lì fino ai 7 anni e poi sono venuta in Italia, sono qui già da oltre 35 anni. Non ho tantissimi ricordi, però dell'Olanda, dei festeggiamenti di questo periodo dicembre, mi ricordo che più che il Natale viene festeggiato moltissimo San Nicolas, che si festeggia i primi di dicembre, dove una specie di Babbo Natale gira per le strade con due aiutanti, tutti dipinti di nero nel volto, un po' vestiti di aggiullari, distribuiscono caramelle ed è una grandissima festa per i bambini, più del Natale e del Capodanno non ricordo tanto, ero piccola.